No, non mi pare abbastanza, la manovra non va, non ridistribuisce ricchezza, non corregge i mali del paese che si chiamano disuguaglianza, disuguaglianza che cresce, salari troppo bassi, manca la prospettiva e manca il coraggio di scelte radicali che rispondano alla radicalità della crisi. Questa piazza è molto bella, è piena, alla faccia di chi pensava che lo sciopero fosse perfino impronunciabile, quella di CGL Will è una scelta giusta e coraggiosa.